Contestati abusi edilizi in area parco, il proprietario non provvede alla demolizione e l'ente acquisisce l'area al proprio patrimonio. Gli accertamenti erano stati eseguiti nei mesi scorsi dei carabinieri parco della stazione di Castellabate. Nello specifico erano stati scoperti abusi in località Cenito, realizzati muri in cemento armato, un cancello carrabile pedonale posizionato lungo il lato sud-est, un cancello scorrevole in ferro e pavimentazione in calcestruzzo su un'area di circa 300 metri quadrati. Le opere erano state realizzate senza il necessario nulla ossa dell'ente parco in un'area ricadente nella perimetrazione definitiva zona C1. Per questo era stata disposta lo scorso aprire la demolizione degli abusi con l'avvertenza che l'accertamento dell'inottemperanza avrebbe costituito titolo per l'acquisizione al patrimonio dell'ente. Nei giorni scorsi, vista proprio l'inottemperanza dell'ordine demolitorio, il parco ha stabilito l'acquisizione al patrimonio di un'area di circa 3.000 metri quadrati. Grazie. Grazie. Grazie.